Vincere il sovrappeso, la pancia, problemi di peso che aumenta e salute attraverso un test che andrò a dirti in questo video. Io sono Luca Veronese, esperto in strategia brucia grassi e metabolismo lento e oggi, proprio sotto a questo tema natalizio, voglio condividere con te un numero, un valore che deve essere in un certo range, se vogliamo stare bene, ma che al giorno d'oggi gli ultimi studi ci dicono che negli Stati Uniti più del 90% delle persone ha un qualche livello di sindrome metabolica, il che è assurdo, perché praticamente tutti, e questo è causa dell'alimentazione che c'è al giorno d'oggi, nel mondo moderno, tutti i cibi processati, più del 60% dei cibi che sono in tavola delle persone sono processati, e questo è il motivo per cui tanti problemi poi a catena vengono fuori. Oggi voglio darti un test da fare che puoi farlo alle persone a te care, alle persone che sono vicino a te, se sei in questo periodo natalizio, probabilmente tanti familiari, spingeli a mangiare quella fetta di panettone in più, bere quel bicchiere in più, mangia che tanto non succede niente, dai mangia un'altra fetta che tanto non succede niente, in realtà questo non è amare una persona, è volergli male, amare una persona significa fare la cosa migliore per lui, quindi in realtà se abbiamo persone anziane, se abbiamo persone di una certa età, se abbiamo persone con uno stato fisico già, spingerli a mangiare non è buono, non è buono sotto ogni punto di vista e soprattutto non ci stiamo prendendo cura di quella persona. Oggi, se vuoi creare scandalo al tuo pranzo di Natale o il giorno dopo, porti con te un glucometro e fai un test. Ora, cosa si è scoperto e cosa si sa? Noi abbiamo dei livelli di zucchero nel sangue che dovrebbero andare sempre in un range che è tra 130 e 70 mg per decilitro e quando noi mangiamo qualcosa succede questo, fa una curva e poi qua, quando sono passate due ore torna esattamente qua, mi viene fame, mangio di nuovo e fa un'altra curva e così via. Questo può essere definito normale e mai la glicemia di una persona dovrebbe essere superiore al 130 mg, né a digiuno ovviamente, ma neanche durante il giorno. Perché? Cos'è un diabetico? Un diabetico è una persona che ha livelli nel sangue, livelli nel sangue di zuccheri più alti di 130 mg. Perché gli si danneggiano i reni? Perché un diabetico finisce in dialisi? Perché ha una glicemia sopra il 130 mg? Perché gli amputano i piedi? Perché ha una glicemia sopra il 130 mg? Perché parliamo già di diabete di tipo 3, di Alzheimer, di demenza? Perché queste persone hanno livelli di iperglicemia costante. E qui non te ne accorgi, non lo sai. Quindi la prova del 9, la verità assoluta, c'è quel piatto di riso, che effetto mi fa? Lo chiedo a Tizio o lo chiedo a Caio? No, lo chiedo a un glucometro. Lo chiedo a un glucometro che mi dà una risposta certa. Per esempio per me il riso è come se mangiassi zucchero. Se mangio zucchero, faccio il test, e mangio il riso, faccio il test, praticamente è quasi uguale. Quindi per me il riso è un alimento che mi dà un eccesso di glucosio nel sangue. Ora, cosa potrebbe succedere in questi giorni di festa, in questi giorni di abbuffate? In realtà se una persona metabolicamente sta bene, non dovrebbe succedere niente. Ma, stando ai numeri, le persone metabolicamente sono devastate. Sono letteralmente devastate. Quindi capiamo da una cattiva gestione degli zuccheri, se c'è qualcosa che non va. Come si fa questo test? Molto semplice. Prendo con un glucometro, poi vi spiegherò come, una misurazione prima di mangiare, e dovrebbe essere 75, 76, 80, preferibilmente meno di 85 a digiuno. A digiuno, dopo 8 ore di digiuno al mattino, dovrebbe essere preferibilmente meno di 85. Questo è quello che dicono le migliori università al mondo. Quando noi abbiamo livelli al mattino tendenzialmente più alti, anche che in realtà siano tra 86 e 99, che ancora andrebbe bene, in realtà noi siamo molto più esposti a problemi di salute, ma è quella che viene anche definita pre-obesità. Quindi io sto già attivando dei meccanismi che non vanno bene. Il mio corpo a livello metabolico già qualcosa sta iniziando a scricchiolare. Comunque, tornando a noi, prendo una misurazione prima e prendo una misurazione due ore dopo il pasto. Due ore dopo il pasto deve essere tornata più o meno a come era prima. Quindi se ce l'avevo più o meno 80, deve essere tornata più o meno 80. Cosa succede e cosa succederà a tante persone? Succederà che prendono, fanno il pranzo, mangiano e succederà questo. Sale. E dopo due ore o più sarà ancora 130, 140, 150 o peggio. E questo è già un bel problema metabolico. Questa è già una resistenza all'insulina. È una persona che il suo corpo non riesce ad abbassare questo livello di zucche. Quindi questo test è vitale. È vitale per capire come sto a livello metabolico. È vitale per capire che scelte alimentari sto facendo, che stile di vita sto facendo. Ora, prendo un glucometro, uno qualsiasi, uno qualsiasi. Prendo le striscette, ok? È molto facile. Mi lavo le mani prima del test. Mi lavo le mani prima del test. Io lo preparo già così. Quando spingo dentro, generalmente sono quasi tutti uguali. Si accende. Buco. Ok, questa è la realtà di come un cibo mi può, cosa mi può fare. Andiamo a vedere. 75. Al mattino, a digiuno, perfetto. Quando mi sveglio è 75, 78, 80, 82. Ma se è più di 85, molto probabilmente sto facendo qualcosa male. Sto producendo cortisolo di notte. Sto stressato, dormo male. Ci sono dei fattori o degli alimenti che mi stanno aumentando il glucosio nel sangue. Quindi questo valore in realtà è importantissimo. E' importantissimo da tenere sotto controllo. Ora, appunto, giorno di Natale, giorno festivo possiamo fare dei test per capire come sto andando. Nel video di domani usciranno delle soluzioni a quello che possiamo fare. Se trovi un numero che non va tanto bene, se quello che è successo a qualche tuo parente, a qualche tuo amico, a qualche persona a te cara è successo questo o a un livello alto, ricordati che mai, in realtà mai, dovrebbe andare oltre i 130. Neanche dopo un pasto, neanche mangiando, mai. Il valore normale è tra 130 e 70. Meno no, perché sarebbe un'ipoglicemia e sarebbe comunque indice di un problemino metabolico, di una gestione degli zuccheri che non va bene. In questo caso succederebbe che ho prodotto troppa insulina, l'ho buttato giù repentinamente e quindi ho avuto una ipoglicemia. Stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. E quindi, niente, questo video spero ti possa essere stato d'aiuto. Fai questo test, fallo ai tuoi cari, fallo ai tuoi genitori, fallo ai tuoi fratelli, fallo alle tue sorelle. Nel video di domani faremo uscire una parte 2 di questo video con un po' di soluzioni utili, perché sennò sarebbe inutile questo video. E, niente, iscriviti al canale, lascia un commento, fammi sapere qui sotto che cosa è uscito e noi ci vediamo qui, sempre tre volte a settimana.